C'è un processo che all'Aquila sta incuriosendo molto la cittadinanza, quello verso il sacerdote Don Paolo Piccoli, ordinato proprio all'Aquila e in città per molti anni nel passato. Immagini pornografiche sarebbero state trovate nel suo computer. Paolo Piccoli è stato, come dicevamo, sacerdote per molti anni all'Aquila ed è accusato oggi di aver ucciso Monsignor Giuseppe Rocco nella casa del clero di Trieste il 25 aprile del 2014 per rubargli una collanina. Un dettaglio è uscito fuori nelle tre ore di udienza a Trieste dall'ex capitano dei carabinieri che in passato aveva condotto le indagini. Le immagini sarebbero state rinvenute sul pc del prelato dai carabinieri del RIS. A difendere il sacerdote c'è anche un avvocato aquilano, Vincenzo Calderoni, che ha chiesto che le rivelazioni dell'ex capitano, che non aggiungerebbero altri dettagli all'impianto accusatorio, non compaiano negli atti processuali. La testimonia chiave del processo è considerata la perpetua di Monsignor Rocco Eleonora di Bitonto, è stata la prima, l'anziana perpetua, a ritrovare il corpo senza vita. La donna in un primo momento aveva dichiarato di ricordare delle tracce di sangue, sebbene in precedenza avesse affermato invece di essere entrata nella stanza completamente buia. Don Paolo Piccoli ha giustificato le tracce ematiche come una reazione allergica al braccio sinistro, gocce di sangue che secondo la difesa sarebbero cadute sul lenzuale di Monsignor Rocco durante la benedizione dopo il decesso. Insomma, secondo la difesa, il castello di accuse si sta rivelando inconsistente e si chiede ora la piena assoluzione di Don Paolo Piccoli. Prossima udienza il 23 marzo.